Uno studio televisivo praticamente vuoto, due sedie, una di queste è una sedia di legno con la spagliera intagliata, un orologio a cucù a una parete e davanti alle due sedie un grande acquario con dei pesci dentro. Da una porta entra il presentatore che ha in mano dei fogli, ignora l'altra persona che è seduta nella sedia con la spagliera intagliata e va verso l'acquario, solleva un coperchietto dell'acquario e dà un po' di mangime ai pesci prendendolo da una ciotolina che è poggiata sulla parte di sopra, sul coperchio dell'acquario. E poi va a sedersi, scartabellando tra i fogli, si gira verso l'ospite che è un uomo vestito con un abito elegante, capelli neri, corvini, sigarette in mano che fuma e comincia a rivolgergli delle domande. Ha così inizio uno scambio arguto, scoppiettante, pieno di citazioni, di parole in francese, di riferimenti, di rimandi. Sono le prime battute dell'intervista di Maurizio Costanzo a Carmelo Bene. Mi è capitata davanti in una delle newsletter che ricevo la mattina a ricordare a me e a tutti quanti quello che la televisione in generale e la televisione pubblica in particolare sapeva essere, poteva essere in Italia nel 1979. Un'ora di conversazione che oggi sarebbe riservata ai canali più specialistici delle televisioni specialistiche via cavo a pagamento che invece veniva data in pasto al pubblico notturno in seconda serata della televisione pubblica prima che la televisione diventasse anche privata. Era il 1979, me lo ricordo bene, il programma si chiamava Acquario, era condotto da Maurizio Costanzo, da un fantastico Maurizio Costanzo. Io ricordo ancora prima di Acquario il programma Bontalloro, il primo talk show della televisione italiana. Io ricordo che ero bambina, ero molto giovane, ma rimanevo alzata fino a tardi perché volevo vedere Bontalloro di Maurizio Costanzo. Non ci capivo niente ma rimasi folgorata dalla figura del giornalista.